Tutto dritto così, ci piace Un posto bellissimo, ma c'è un po' difficoltà a stare dietro Adesso usciamo su questa cresta qua e poi ci mettiamo a minucolare la parte qua sotto Un posto bellissimo La nostra avventura inizia da qui. Ci troviamo nell'Agordino, sulle Dolomiti Venete, dei paesaggi mozzafiato che ci metteranno duramente alla prova. Cacceremo camosci, cervi e caprioli con le nostre franchi orison in 300 e 308, per poi avventurarci alla ricerca di qualche gallo. Mustang, Zoe, il feeling beccaccia e il feeling select ci aiuteranno nell'impresa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.